Il nostro core business nasce negli anni 80, dopo varie peripezie nel mondo siamo ritornati nel 2007 in Italia e abbiamo aperto questo tour operator con il core business Africa, principalmente Africa, Kenya, Tanzania, dall'Etiopia al Sudafrica, dal Zimbabwe alla Namibia, l'Oceano Indiano, poi sono due anni che abbiamo iniziato a operare in Egitto, sia con il classico tour del Cairo più la crocina sul Nilo, poi con la vacanza mare a Sharm el Sheikh, con ottimi risultati. Sono Ahmed Abokresha di Corsini Travel Egitto, sono il titolare di DMC Al Cairo, Corsini Travel, stiamo nel mercato italiano del 2010, i nostri uffici stanno Al Cairo, Al Uxor, Aswan, Marsalam e Sharm el Sheikh. Grazie a Dio, negli ultimi due o tre anni il mercato italiano sta tornando fortemente in Egitto, soprattutto per il Mar Rosso e l'anno scorso abbiamo già cominciato a ricevere un numero grandissimo per l'Egitto classico, cioè il Cairo e la crociera sul Nilo, quest'anno stiamo pensando, anzi quasi confermato il 90% che torniamo nel mercato con il nostro Charter che fa i voli diritti da Milano, anche da Roma, direttamente a Luxor per fare la crociera sul Nilo, offriamo per la crociera quattro notti, sette notti, al Cairo offriamo tre notti anche con estensione mare in Sharm el Sheikh oppure Marsalam. That's me, Christine, from Sheraton, Sharm el Sheikh, and I would like to talk to you first about the destination. Sharm el Sheikh is a wonderful destination, and it's a preferred destination for our beloved Italian people, and you all know it, and we all look forward to welcome you there. In our hotel, Sheraton, we offer a great location for our guests, we offer great facilities too. Sheraton is located directly on the beach, and it's overlooking the Red Sea, and you can enjoy great views from the balcony of your room, from the main building. It's an amazing area to go diving offshore, so if you are interested in diving, you can directly go offshore to an amazing dive site right from the hotel. The hotel, with its facilities, meets the taste of everyone, whether you are coming for relaxation, whether you are coming for a honeymoon, whether you are coming with your family and kids, you are all going to enjoy it. We offer a great experience for everyone to enjoy Sharm el Sheikh. From our hotel, you can go around for different excursions, you can go on a desert safari, you can go diving through the Blue Hole, or you can go to Ras Mohamed, which is a protected area, you can enjoy lots and lots of dive sites. We all look forward to welcome you in Sheraton, and our rooms are all equipped to fit your requirements, and very spacious, available for all the family. So we look forward to welcome you, and that's why we are here today in the BMT in Napoli, to say that we look forward to welcome you in Sheraton Charm. Thank you so much.